28 persone sono state condannate con pene che emano da un minimo di otto mesi a un massimo di un anno e quattro mesi per la maxitruffa alle assicurazioni scoperta nel 2014 dai carabinieri di Rivergaro. L'obiettivo era ottenere risarcimenti per incidenti stradali mai avvenuti. Un raggiro di enormi proporzioni che aveva portato al rinvio a giudizio di ben 149 persone. Dopo i 93 patteggiamenti del luglio 2016 le 28 condanne riguardano gli imputati che avevano scelto il rito ordinario. Si trattava, secondo le accuse, di persone che si prestavano a mettere in scena incidenti fasulli. In alcuni casi si fingevano ciclisti o pedoni urtati da un'auto. Portati al pronto soccorso lamentavano dolori e lesioni varie dichiarando il falso agli operatori sanitari. In altri casi avrebbero messo a disposizione la loro auto per simulare gli incidenti. Finiva spesso con una constatazione amichevole. Se invece intervenivano le forze dell'ordine per i rilievi, le bugie venivano raccontate direttamente agli agenti. Al termine dell'iter arrivavano i risarcimenti, talvolta molto sostanziosi. Le comparse intascavano compensi che andavano dai 500 ai 1000 euro alla volta, mentre la parte più sostanziosa sarebbe rimasta nelle mani degli organizzatori del raggiro. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Luca Milani. Il pubblico ministero era Emilio Pisante. I reati contestati erano a vario titolo la simulazione di incidenti, il falso in atto pubblico e la falsità ideologica.